Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Tantissima gente alla parrocchia di San Giovanni a Marotta per l'ultimo saluto ad Andrea Sciarrini, l'amattissimo conosciuto e stimato cestista di 40 anni di Marotta, morto a seguito di un malore fatale sabato sera in casa propria, dopo aver disputato una partita di basket delle sue Marotta, senza evidenziare alcun problema fisico. Nella gremitissima chiesa tantissimi amici che si sono stretti attorno ai familiari, alla moglie Laria e alle due bambine di 10 e 4 anni. Presenti anche diversi amministratori, a partire da quelli delle comuni di Mondolfo e rappresentanti del mondo della palacanestro marchigiane nazionale, da sempre il mondo di Andrea. Ancora tutti increduli per l'accaduto, che potrebbe trovare spiegazioni dell'autopsia disposta sul corpo dell'uomo su richiesta dei familiari. Nelle scorse ore è stata eseguita per capire cosa sia successo, soprattutto come tutela verso le due bambine di Andrea, per valutare se a livello genetico ci siano dei rischi da prevenire. Il dramma si è consumato al termine del match tra Marotta e Urbania del campionato di promozione, nel corso del quale Andrea aveva disputato un'ottima gara, distinguendosi come sempre tra i protagonisti. Al rientro a casa ha detto alla moglie di aver bisogno di andare in bagno, dove ha accusato un malore ed è caduto improvvisamente a terra. Immediate le cure della donna che gli ha praticato le prime operazioni di rianimazione. Nonostante l'immediato arrivo del 118, per Sciarrini non c'è stato nulla da fare. Come atleta aveva giocato nelle giovanili della VL, prima di militare a lungo nei campionati minori locali. Era anche referente della Free Italian Street Ball, associazione dell'etantistica che promuove il basket di strada, per cui aveva organizzato diversi eventi estivi. È stato promotore pure delle torneo Summer League che si disputa a Senigallia, città dove aveva giocato nel 2001-2002. In passato Andrea era stato fermo per un paio d'anni dopo un problema di circolazione periferica, ma proprio per questo motivo era un soggetto sottoposto a controlli medici frequenti. La FIP Marche ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi per onorarne la memoria, sia nelle gare disputate nel weekend trascorso che in quello del prossimo fine settimana.